L'esperienza per realizzare questa collezione è stata molto creativa, in cui abbiamo ognuno di noi dovuto mettere anche magari la propria esperienza settoriale, professionale, di sicuro, però anche molte idee. E' stato molto bello, a me è piaciuto un sacco lavorare in particolare con questo tipo di stoffe pregiate e particolari.